Ciao ragazzi, un saluto da Zebra Bianconera. Allora, nel video di oggi parliamo della storia di Marco Stolari. Ma prima di parlare della storia di Marco Stolari, voglio fare tanti auguri di Boccomperanno a mio padre, davvero. Tanti auguri di Boccomperanno, papà, ti voglio veramente tanto bene. E grazie mille per la juventinità che mi trasmetti. Mi sento juventino e sono juventino al 300%, dalla testa ai piedi. Grazie mille di tutto anche a te, papà, davvero. E poi auguro un buon primo omaggio a tutti quanti. Ai miei parenti, ai miei genitori, alla mia famiglia, ai miei amici e ai miei iscritti. Vi voglio veramente tanto bene a tutti quanti, ragazzi. Si parte! Oggi parliamo della storia di Marco Stolari. Marco Stolari, che per me è stato veramente un gran portiere, lo considero. Un portiere molto buono, davvero. Un portiere dai grandi doti. Stolari ha fatto veramente delle grandi parate nella sua carriera. Vi racconta alcune partite dove ha fatto veramente partite mostruose. Allora, in Roma Sandoia, Roma Sandoia, quando la Sandoia vinse 2-1 con la Roma all'Olimpico, Stolari. Stolari con la madre della Sandoia fece delle parate strepitose e mostruose contro Totti e compagni. E salvò la partita. tenne a gare la partita della Sandoia e alla fine vinse 2-1 con la Roma all'Olimpico ad aprile 2010. Poi, la seconda partita in cui fece veramente delle grandissime parate fu ancora contro la Roma. Fu ancora contro la Roma. in Roma Juventus 0-1 dell'11 maggio 2014, ragazzi. Che parate, che parate allucinanti, allucinanti. Su Totti, su Gervinio, su Florenzi. Mamma mia, ragazzi. Ha fatto una partita mostruosa contro la Roma all'Olimpico, per la seconda volta, anche. E poi, alla fine, abbiamo vinto 1-0 con il gol di Osvaldo all'ultimo secondo. Quindi, una vittoria stupenda, davvero stupenda. E un gran meta va dato a Storari, non solo con Osvaldo. Osvaldo, specialmente, il grande, il grande, il grande Marco Storari. Che io, Storari, lo preferisco. Mi è dispiaciuto quando è andato via Storari dalla Juventus, perché io, Storari, lo preferisco. Mille volte a Neto, perché Neto è un portiere che le cazzate le fa. E poi, la terza partita, la terza partita, ragazzi, in cui ho visto Storari super, un super Storari, è stato in Inter-Juventus 1-2, a maggio 2015. Noi avevamo vinto 2-1 con l'Inter fuori casa, e Storari fece delle parate mostruose. Mi ricordo quella parata che evitò il 2-2 nel finale, una parata su Palazzo, e, infine, la seconda parata consecutiva, proprio. Un secondo dopo, sui caddi, due parate mostruose, due parate mostruose, che vassero la nostra vittoria. Grande Marco, grandissimo Marco. Mamma mia, strepitoso. Non so quali aggettivi trovare. E poi posso dire che Storari è stata veramente anche una grande persona, una bravissima persona, non ho mai dubitato su quello, anzi, si è comportato sempre benissimo, nella nostra Juventus anche, quindi, complimenti Marco. Bene ragazzi, con questo è tutto, vi auguro una buona giornata, e un buon primo maggio a tutti, iscrivetevi al canale YouTube, e seguitemi anche su Instagram, su Zebra, Tantino Basso, bianco o nera. Fino alla fine, forza Juventus, buona giornata a tutti ragazzi, ciao!